Io sono un tifoso come tutti voi, bisogna essere onesti e riconoscere che la Spagna ha giocato molto meglio, però nello sport come nella vita c'è sempre il momento di recuperare e superare. Non è la prima volta che l'Italia nella storia dei campionati europei o mondiali le prime partite si stenta e dopodiché, come è già accaduto, si eccelle nel proseguo del torneo. Quindi da tifoso a questo io spero e ambisco. Ho grande fiducia in Spalletti e credo che già tante volte la nazionale italiana ha dimostrato che nelle qualificazioni ha arrancato e poi abbiamo vinto i mondiali, abbiamo vinto gli europei. Ieri oggettivamente la Spagna ha giocato meglio, ci ha dato una grande lezione di calcio, ma l'Italia è così. Quando si piglia un bel pugno nello stomaco si rialza e diventa ancora più forte, non ci sconfiggerà nessuno. Con la Croazia, Spalletti, vai alla grande!